Siamo in via Valdossola, nel quartiere di Sacco Pastore, dove stiamo incontrando un po' di cittadini. Oggi abbiamo preso l'unica bicicletta, ce ne sono soltanto tre, disponibili a Piazza Sempione per il cosiddetto bike sharing di Alemanne e Bonelli. In realtà questo non è assolutamente un bike sharing, perché in qualsiasi altra capitale europea le biciclette sono posizionate nei punti strategici della città e servono a collegare i punti più importanti per far arrivare la gente al lavoro, per far arrivare le università. Qui in quarto municipio si è pensato di fare soltanto una cosa che fosse promozionale e di comunicazione. Noi invece vogliamo dotare questo territorio finalmente di piste ciclabili e di veri punti di bike sharing dove poter fare lo scambio della bicicletta, quindi dove poter prendere una bicicletta ed arrivare poi a prendere magari una metropolitana o a prendere un altro mezzo. Grazie.